Dove va buttato un tappo di sughero? È un vassoio di polistirolo? Da oggi, per trovare rapidamente la risposta corretta, è possibile utilizzare il riciclabolario. Si tratta di un opuscolo realizzato dall'amministrazione comunale di Pordenone, Egea S.p.A., che verrà distribuito a tutte le famiglie. Strutturato come un vero e proprio dizionario, indica con semplicità dove vanno conferiti diversi tipi di rifiuto. Il riciclabolario è anche online. All'indirizzo comune.pordenone.it riciclabolario, dove la guida può essere scaricata in formato PDF, è attivo un motore di ricerca che permette di individuare la corretta modalità di conferimento per ogni rifiuto. È un sistema di ricerca guidato intuitivo. Ad esempio, inserendo la parola CAF, il riciclabolario proporrà caffè, ma anche mensole e scaffali. Cliccando quindi sul rifiuto cercato, sarà possibile scoprire in un attimo come e dove conferirlo. E se nell'elenco manca un rifiuto, tutti possono contribuire a tenere aggiornato il riciclabolario, segnando via web il termine mancante. Il personale del comune provvederà ad aggiungerlo all'elenco. L'assessore comunale, Nicola Conficoni. È pronta per la spedizione una guida pratica, il riciclabolario, che vuol fugare i dubbi su come conferire correttamente i rifiuti, inserendoli nel giusto contenitore. Un altro contributo che vogliamo dare per implementare la raccolta differenziata è per cercare di agevolare i cittadini nel praticarla correttamente. Questa guida pratica può essere consultata e aggiornata anche online e contiene degli utili suggerimenti su come ridurre i rifiuti, perché non dobbiamo dimenticare che il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto.